I'm just as fucked up as they say Arricati Luzzati esplode L'energia delle idee Ragazzi buongiorno, ho una novità La provincia di Treviso ha indetto un concorso per promuovere la sostenibilità ambientale rivolto a tutti gli istituti trevigiani che vogliono aderire è chiaro che quella che vi lancio è una sfida importante, difficile nel senso che non è semplice immaginare azioni, iniziative che possono promuovere le buone pratiche presso i vostri compagni anche perché l'iniziativa dovrebbe coinvolgere l'intero istituto Energy Team Il nostro sogno Tanto spreco, pochi fatti questa generazione La gente non esprime la propria opinione L'opinione è sempre condizionata Per infrescarla ci vorrebbe una doccia gelata Siamo l'Energy Team, we have a dream, we have a dream Il nostro sogno è un mondo più pulito, in fondo per spegnere lo spreco basta solamente un dito Con i consumi non c'è da scherzare, diamoci da fare, siamo qui a nome della provincia Il risparmio importante deve essere costante, mettiamoci l'impegno che il risparmio comincia Buongiorno 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 a tutti Io sono Nima Io sono Damiano E noi siamo qui per parlare riguardo al concorso che è stato indetto dalla provincia a cui la nostra scuola ha aderito Questo concorso si chiama Green School Scuole Verdi perché queste scuole hanno una sensibilità per l'ambiente E noi vorremmo che voi ci deste una mano Chiediamo due semplici cose per cui basta impiegare poco tempo Alla fine della mattinata controllate se i compiti sono spenti ed eventualmente si sono accesi le spegnette E controllate anche se le luci sono accese e nel caso fossero accesi le spegnette Noi crediamo in questo concorso e chiediamo la vostra collaborazione Noi siamo dei delunni della prima E e abbiamo deciso di partecipare al progetto Green School Indetto dalla provincia Perché crediamo fortemente nel risparmio energetico e nel rispetto per l'ambiente Abbiamo divisi le parti e l'unica di noi ha fatto qualcosa per far risultare il lavoro al meglio Abbiamo lavorato anche a casa per il montaggio del video E' stato molto complesso vedere le varie parti Noi e la prima Cilie abbiamo collaborato per creare un